Allora, avendone fatto richiesta anche in ragione del suo ruolo istituzionale al Presidente della Delegazione Italiana presso l'Assemblea Parlamentare della Nato a facoltà di intervenire in via del tutto eccezionale per uno spazio temporale molto contenuto, il Deputato Cesa, prego le la parola. Grazie Presidente davvero per avermi concesso questa opportunità e colgo anche l'occasione per chiederle e chiedere a tutti i capigruppo di quest'Aula una riflessione anche sul lavoro che si svolgono come delegazioni perché noi lavoriamo tutto l'anno in maniera molto intensa ma poi non c'è mai occasione di poter riferire qua in Aula il lavoro che noi svolgiamo e devo dire che io sono molto orgoglioso di quello che fa la Delegazione Nato. Il lavoro che ha svolto in questo ultimo anno e mezzo siamo passato da zero incariche a nove incariche all'interno dell'Assemblea Parlamentare ci tengo a dirlo perché colleghi che hanno preso la parola anche qui questa mattina oggi hanno ruoli importati all'interno dell'Assemblea Nato. Io mi limito oggi a ringraziare davvero il Ministro Grosetto e attraverso il Ministro Grosetto voglio ringraziare il Ministro degli Estri italiani soprattutto la Presidente del Consiglio per l'astroordinario lavoro fatto in questo anno e mezzo almeno che io seguo come Presidente della Delegazione Nato all'interno della Nato e per rafforzare la posizione del nostro Paese all'interno della Nato. Ringrazio il Presidente Fontana, il Presidente della Russa per il lavoro che hanno svolto a Washington in seno all'Assemblea Parlamentare Nato. Qual è stato il nostro ruolo? Il nostro ruolo è quello di veramente puntare dagli obiettivi, sostenere la Nato senza sé e senza ma. Ricordando a tutti, io vi prego di andare a leggervi le ragioni costitutive della Nato perché se non si va a vedere quali sono state le ragioni della Costituzione non si capisce il perché. La Nato è strumento di difesa della democrazia, è strumento di difesa delle libertà dei popoli, del singolo cittadino che appartiene all'Alleanza Atlantica, è strumento di pace, lo dice un credente che ogni domenica ascolta anche il Santo Padre. E' lo strumento di pace e lo voglio dire soprattutto a chi mi ha preceduto, al collega Pellegrini, a Fratoianni che sono stati molto critici, forse Fratoianni non ha ben compreso neanche le parole del Ministro. Rispetto all'Africa, in Africa noi sviluppiamo delle patte nel ciclo dei Paesi che ce lo chiedono per rafforzare la democrazia in alcuni Paesi rispetto a un lavoro che i russi e i cinesi stanno facendo in quel Paese. Non prendere atto della situazione. L'ultima cosa che voglio dire Presidente, faccio un appello a tutti, ammainiamo le bandierine, quando si parla di sicurezza del Paese, quando si parla di difesa di un Paese, è patrimonio di tutti, dovremmo occuparci di tutti con un'unità di intenti.